Allora, sta arrivando in qualche minuto quando abbiamo avuto un piccolo montaggio, ma lei, tanto il sostegno del pubblico, comincia a leggere, a raccontare qualcosa? Ma, ma, troppo facile per me, comunque, spediamo, scopo così, ma qual è? E' regredire la storia di... che anzi, regredo. C'è una volta, una coppia di cartellini, come una matrimia castiva che voleva liberarsi di loro. Una sera, i due bambini dirono la matrimia che diceva loro papà. Non c'è un altro altro da pensare, non mi ha fatto tutto, 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 non mi ha fatto tutto. Il posto è morto e non sai fargli avaricurato, ma non sai. Non sai, non sai ! Non sai, non sai ! Non si prova di bere il posto, e non sai fargli avare il posto. Ricorda di ribadare, il plato è con il posto, il plato è con il posto. Stem, un, e spoglie questi capelli che non saranno da nessuna parte. E' un po' riscargo, ma puo' è un'estione di fare il posto. Grazie a tutti! Buonasera, buonasera signori. Io sono qua per raccontare i biancati che sono tenati, posso aiuto? Trafico, arrivate trafico in questo periodo. Ma non mi è giunta che nella mia base di biancati che sono i bambini che sbagliano i matri, sono matri. Buonasera, buonasera signori. Buonasera, buonasera signori. 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 Grazie, ora puoi andare. Ci ho bisogno di qualcosa che siamo. Buonasera signori. 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 Ehi, 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 ehi. Virginia! Virginia, presto! Veloce! Ecco, Virginia, solo qui per servirla, prego! Dammi una sistemata di capelli, devo interrogare lo specchio. Lo so! Sì, sì, dai, va bene, ora basta. Puoi andare. Vecchio, il servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Esiste una bambina, figlia di un re, ed è più bella di te. Sì! La bambina si pianta, come la neve. Ma, ma sono spesso parlato! Sto parlando davvero! Allora, vedete che ho ragione di mio, questo libro è proprio magico! Allora, che stai detto? Sì, e smetta di parlare più di dei fatti tuoi. Qui la situazione è pratica, se non te ne sei accorto. Bisogna trovare una soluzione. E cosa fai, palavo? Ma guarda su quel tuo libro, no? Qua sta! Vediamo, vediamo. Verde di rabbia, la regina ordinò al suo guardia caccia di portare la principessa nel bosco e ci uccida. Questa sì è un'ottima idea. Così, sarò solo io la più bella. Buonasera a tutti. Eh, eh, no. va bene essere educato ma quello è troppo è troppo non mi sembra giusto io devo entrare in tutte le fiate quando ho detto la parola fine ma mi sembra giusto penso proprio di no e allora? cosa devo fare? non lo ricordo più che dico? cioè in tutte le fiate si deve ricordare di me solo alla fine non mi sembra ben niente giusto cioè è il 17 anni che mi ha messo nei titoli e a me no? cioè sono bello biondo e non mi fanno fare niente cioè io non ci sto no? e poi no caro Marco amico mio per favore siccome tu sei un po' timido devo scrivere un consiglio per conquistare Bianca Neve quindi cosa posso fare? ginocchia di e quindi le congetti lenta oh bellissima Bianca Neve vuoi essere mia amica? oh Bianca Neve per favore questa è mia amica dimmi di sì per favore ma insomma principe azzurro ho già confermato la tua amicizia su facebook su twitter cosa vuoi? e vedete ciao ciao Bianca Neve però non sapeva che la cura della regina stava pensando a come giunare ma per carità no 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 ma per carità no 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 è vicino all'estate e la prova che tu insomma devo essere perfetta no? no 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 quello che voglio è eliminare Bianca Neve portala nel bosco e uccidila solo così sarò io la più bella no no so lo so tu hai capito di portare Bianca Neve nel bosco eh Bianca Neve sta già scappando verso la casetta dei sette nani ma non ce l'ho fatto ucciderla come puoi?! è troppo bella è troppo giovane no no gli ho detto di nascondersi lì in che le我是 si saranno salmate i sette nani sono amici miei li staranno sicuro ma io però vado perché non vorrei se quella strega me la facesse pagare perché non l'ho ucciso Biancaneve ci vediamo ma dove andrà? ho trovato un biglietto last minute per la polinesia nel normale il sole di gratinetta vado meglio per dovere ma quando tornerai spero che tornerai ma non ci penso proprio no no, rimango per ospitare da un amico dopo troverò un impiego un nuovo entro in qualche modo lo so che ho sistemato ma quella strega non torna proprio adesso vado davvero e ci vediamo a tutti i pochi su che mi metto specchio, verbo delle mie brame chi è ora la più bella del reame? tu sei bella regina ma Biancaneve è sempre più bella di te sì allora è ancora viva ascoltati bene dove si trova Biancaneve adesso? è in fuga verso luoghi non molto lontani puoi trovarla nella casa dei Nari mi piace, mi piace mi piace che buona la faccia Virginia, Virginia, presto portami una pentola, una mela e la formula dell'incantismo veloce che mi serve? sì, parliamo di a Virginia non abbiamo tutta la giornata? metto il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno una mela per sentarla e per sempre addormentarla quando lei la denterà in un sonno mortale si unnerà si vede? solo il postino questa è la tavoledrina, no? sì, questo ecco, questo oratorio ha ordinato una foresta adesso che ho capito bene sta arrivando Biancaneve quindi ecco qua i fatti vi portano i miei assistenti se non vedevi ecco, adesso non so tutto i miei assistenti le pomano sono un posto in piena dai, intanto firmi ecco, dai dai, apri subito dai, apri dai, apri dai, apri dai, apri io non lo mettiamo qua no, no portano qua qui dai, qui dai dai, il tempo è di Nari non mi fa colore ma no ma hai studiato le scuole serali ecco qua adesso abbiamo messo il buono ma i fatti spavitano questi vediamo se è tutto giusto allora l'albero c'è l'erba pure pensate che va tutto bene? aspettiamo una risposta però va bene lo stesso perché secondo me così va benissimo e quindi dai noi ce ne andiamo andiamo a fare la prossima consiglia per il tempo è di Nari firmato per cui io vado arrivederci va bene torniamo a noi dov'è, dov'è, dov'è l'avamo di Nari ah, eccoci Biancaneve fugge nel bosco voglio, a questo punto Biancaneve è un problema che fugge la catena di Nari perché tra io qui vedo il nome il nome dei altri è la voce è la voce la città città diciamo qua no non dimenticate di consegnarmi questi due capelli non so cosa ti servano se non ho fatto i vostri e per un altro che mi fa qua ecco qua regalato eh rivedete dove sono? fa freddo che paura oh come vorrei che con me ci fosse qualcosa ehi 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 ragazza ehi chi siete? dove siete? non è qui non è qui ma non è buono ma che vi è inizio è stata la mia sicurezza non ho spaventata adesso anche voi ma dove potete scappare? quanta fretta ma dove corri dove vai se ci accorti per un momento capito chi chi parla? la volpe ciao volpe come stai? insomma così è andrà meglio ma così la va sono che scordato e lui come sta? ma ma lui è sempre fuori sempre un paulino è colpa dell'età scusate dove siete trovi? guarda sono qua con un cappuccetto rosso siamo andati a fare shopping al nuovo centro commerciale in mezzo alla forezza all'outlay? non l'outlay come si chiama? la grande pigna ah a la alpino simbretto da quelle parti l'acero insomma ascolta avete un problema e chi bianca neve? che vedesse che c'era paglia paglia bianca 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 come la neve si chiama bianca neve e bisogna portarla dai no anni sei quei no anni ti dispacca a mungi lì dai quindi si vive nella forezza ah i sette anni ho capito ho capito esattamente dovresti venire qua a prendertela io dove venire a prendertela? certo con un cappuccetto rosso venite qui ah ho capito un attimo ma c'è le ultime spesucce poi prendo la macchina arrivo e poi prendo la macchina e sono da voi ok giudì grazie ciao ciao bella come andate voglio venire vi prego sto cercando la tutela per la tutela per i sette anni aiutatemi possiamo fare in fretta la mia macchina per arrivare da un vento ad altro ma non piangere ma non ti preoccupare tu hai detto quel uomo che ti aiutiamo ti portiamo noi io ho detto che io l'aiuterò cosa vuoi stare tu quando ci sono qua io che sono il mago del computer sei il storico sempre tutto adesso che te lo dico qui io ti lascio cioè ti lascio perdere perché sei grande e grosso io sono piccolino e penso dai per la casetta dei sette nani no ma questo davvero ma tu che dici è il traipino è il traipino che dici raccamuti ecco vedi la casetta dei sette nani è vicinissima alla casetta della nonna allora dobbiamo andare anche dalla nonna non possiamo aspettare di lavoro però la strada visto che è più o meno la stessa seguitemi qui ci porto e vai è ora che il mago inverno se ne è andato da questo posto finalmente è un campo libero per farle per farle è il vostro momento che meraviglia dopo le farfalle i fiori voglio fiori da tutto fiori è ora risposta comunque comunque ci sono Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signorina. Buongiorno. 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 e credi come ti dice la storia? allora qui si narra che dolce patina nella storia è scritto che chi salva bianca neve è ma principe azzurro la polvere no ci penso io ci penso io principe principe dove sei? vieni ma è un tempo davvero? cosa mi dice? i messi ricordano solo alla fine adesso cosa devo fare? facciate via cadere e svegliarla e noia che barba si muove queste cose ma è una cosa nuova e non c'è uuuuuuuuuuuu miracolo e smettila di lamentarmi ecco ti sei visto mi sono svegliata da sola oh no adesso me lo do da più questa scena non mi sono preparato che amore ma solo oh mio dio ma no guarda quanti amici hai oh no oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma la Fulvia, no, Gugola, Irma, Tosta, che ha fatto pure Irma anche Ivana. Figola, io ci ha fatto anche il quadro, Natalia, Eola, Aida. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.